Ciao a tutti, io sono Sali e sono finalmente tornata su YouTube per parlarvi della mia nuova passione che è la passione per le agende. Oggi sono qui con la mia agenda per farvela vedere e anche farvi vedere l'interno e come l'ho personalizzata. Sono stata praticamente buttata in questo mondo da una mia amica che un giorno mi ha messa in un gruppo di Facebook dove si parla appunto di queste agende e nel giro di un giorno mi sono fatta una cultura e ho detto cavolo questo deve essere il mio nuovo hobby e lo è diventato. Quindi ho subito prontamente comprato questa agenda qui che è una Doki Book della marca Love Doki, o è il contrario, della marca Love Doki, proprio esattamente così, ed è un'azienda cinese che fa queste agende carinissime. So che ci sono tantissime marche, c'è la Kiki K, la Filofax che non so se si pronuncia così, e poi altre mille agende, insomma comunque è un'azienda dalla forma veramente classica, però era l'unica con un colore che mi piaceva, un bel lilla tendente a rosa che adesso vi farò vedere. Queste appunto arrivano dalla Cina e ho comprato questa agenda che è nella misura 5, scusate, ok, che è nella misura 5, vedrete che è veramente gigante e l'ho pagata 32 dollari e 50, più ho comprato altre cosette da mettere dentro, tipo porta-wash tape, divisori eccetera eccetera, che vi farò vedere a breve, anzi no, vi faccio subito vedere un porta-wash tape visto che l'ho tenuto fuori dall'agenda, ed è praticamente un pezzetto di plastica dove voi fate girare i vostri tape, wash, deco tape, insomma quello che volete, io ho messo anche uno scotch biadesivo, in maniera che potete portarlo sempre con voi e avete i vostri scotch pronti all'uso, ovunque vogliate. insomma la vostra doki book arriva tutta bene incartata con la carta bolle, si chiama carta bolle, non lo so, qui la chiamano tipo pacci patti, viene tutta bene incartata e dentro ho questa scatolina che io per esigenze di ocopione ho già tagliato e via, portiamola via ed ecco qui l'agenda. il colore è abbastanza, come si dice, aiuto, non posso neanche tagliare questo video, quindi per forza di cose mi dovete beccare tutti quanti i punti morti di questo video, comunque il colore che vedete adesso in video mi sembra abbastanza veritiero, io prima di comprare ho visto video, foto, eccetera, e non c'era mai il colore esatto, e anche sul sito della doki book, questa agenda sembra più lilla che rosa, in altre foto fatte da altri ragazzi su instagram sembrava rosa e non lilla, invece è proprio un lillino tendente a rosa, mi piace un sacco come colore. e vi arriva l'agenda con vari interni e arriva anche con dei divisori, questi qui con le scritte dorate, visto che poi l'interno come vedete è dorato e anche il bottone qui è dorato, io non li utilizzo questi perché non sono pastellosi, non è che mi facciano impazzire, quindi li sto utilizzando in realtà come basi per tenere i miei fogli in refill, che poi vi faccio subito vedere, e bucarli senza rompere i fogli, eccetera, eccetera. e passo subito a farvi vedere l'interno della agenda, siete pronti? eccola qui, non è ancora decorata al 100% perché l'ho presa l'altro ieri, quindi l'ho riempita con le cose che avevo e appunto con i fogli che mi ero fatta mentre ero in vacanza in Italia, poi ho comprato qualche cosina tipo queste forbicette qui, eccetera, eccetera. allora qui, notiamo subito che esce il disegno fatto da mia nipote, prima che io partissi per il Giappone e ovviamente sono io questa. poi ci sono semplicemente delle etichette adesive, che metto in questa taschina qui, questa agenda mi piace un sacco perché è piena di tasche, quindi con questi ci metto, ci ho messo varie cose tipo questi memo dei Littel, questa puricura, questa bambolina che è una spilla fatta su una plastichetta molto carina, un adesivo fatto da una illustratrice giapponese, e anche questa spilla è fatta da una delle mie illustratrice giapponesi preferita. questa spilla qui l'ho attaccata ad un cartoncino perché non volevo bucare l'agenda, quindi ho trovato molto pratico fare così, in maniera che esce fuori solo la spilla senza che si veda il cartoncino, mi è piaciuto metterci questo. e non ho trovato ancora delle pin carine, delle attach carine da attaccare qui, ma vedrò. poi ho preso queste forbici della Swimmer, adorabili, guardate, sono piccolissime, poi tagliano bene perché sono di metallo, e hanno questo unicornino qui, molto carine. poi questa cartolina che ancora devo attaccare, ma non è carinissima con loro vestiti a neve, con le tute da neve un po' anni 80. poi questa cartolina qui che ho bucato per inserirla nella mia agenda, e anche questa è di un'illustratrice giapponese che si chiama Shimayamina, penso, non so se qui dove ho fatto il buco ci fosse un altro pezzo del nome, e poi si parte con l'agenda. qui c'è una dashboard, pensavo di utilizzarla per attaccarci dei, come si chiamano, aiuto, dei posti, ma non ne ho trovati di carini, devo essere sincera, ovviamente devono essere per forza o rosa, o viola o celesti, anzi, o lilla o celesti, perché non accetto altri colori, ma non li ho trovati, per cui adesso la utilizzo come copriaggenda, per non farla rovinare, e si passa subito ai miei refill, questa è la pagina principale, vedrete che poi tutti i mesi li ho fatti nello stesso modo, purtroppo si è un po' rovinata, comunque tutti i mesi li ho fatti nello stesso modo, ovvero con una decorazione, una texture che viene riportata poi, in tutto il mese, e vabbè vi faccio vedere, insomma c'è il mese, nella prima pagina c'è la to-do list, watching list e wish list del mese, purtroppo la mia agenda non è ancora decorata, quindi non ve la faccio vedere ancora, ma magari farò dei video più avanti, se riguardo questo, e vi faccio vedere com'è all'interno, è un'agenda settimanale, in più c'è una piccola parte per delle note varie ed eventuali, con l'agenda mi è arrivato anche questo segnaggiorno, che è molto carino, è un righello, e fa sempre comodo, e niente, si inserisce così, e fa da segnaggiorno, perché esce fuori con Kido Today, poi ogni mese, come vedete l'ho decorato in maniera diversa, quindi utilizzando come schema di colore, solo il rosa e il viola e il celeste, quindi ecco qua, lo schema è sempre quello, alla fine di ogni mese, tra l'altro, perché c'è la copertina, e poi, aiuto, dov'è la fine del mese, e poi, il finale di copertina, cioè la fine del mese, è fatto così, per dare comunque un effetto carino, e non lasciare una pagina bianca, ed ecco qui, è tutta così, ovviamente è annuale, ed è perpetua, perché come vedete, non ho segnato i giorni, andranno poi segnati a mano, ho fatto poi dei divisori, per le pagine dopo, questo è il divisorio che porta alle spese, che non so veramente se utilizzerò, comunque questi sono i miei refill per le spese, ho utilizzato questo disegno, dei little three stars, perché è adorabile, lei ha gli occhiali, e lui sta facendo i conti, troppo carino, e appunto ho fatto questi refill qui, da riempire con le spese, e le entrate, dovrei già riempirlo, ma è una cosa veramente pesante, perché poi vedrete, cioè con questo metodo, andate a vedere quanto spendete, vedete i vostri soldi, che se ne vanno via, e nel mio caso, potete ben immaginare, in cosa vanno via, beh principalmente in realtà in cibo, e poi in cose carine, poi passiamo al work, lavoro, qui ci sono delle schede, che io ho fatto, per organizzare il lavoro, delle mie cover di Charin Kawa Island, niente, è una cosa molto semplice, praticamente scrivo, che tipo di cellulare, per che tipo di cellulare, mi hanno ricasso la cover, che design è stato scelto, il tracking number, una volta spedito, poi qui, annerirò questi codicini, quando avrò fatti i pezzi, quando mi sarà arrivata la cover, o se la cover l'ho già ordinata, e qui quando ho spedito, e quando è arrivato, e quindi tutto concluso, alla fine della sezione lavoro, ovviamente, ho inserito, le foto delle mie cover, che io utilizzo, diciamo come esempio, mentre faccio appunto i pezzi, e quindi le ho inserite tutte, ed ecco qui, e poi alla fine, l'ultimo refill della mia agenda, è le note, praticamente una parte quaderno, ecco ho fatto, anche questo l'ho fatto io, qui magari si mette un titolino, e qui insomma si scrive, su questo foglio a riga, e qui così, l'ho fatto rosa da una parte, e celeste dall'altra, tra l'altro penso, che i miei refill, saranno tutti disponibili, sul mio Etsy shop, non so quando, prima o poi, quindi chi vedrà questo video, più avanti, magari sono già disponibili, nel mio Etsy shop, che vi dico qui sotto, tutti, tranne quello delle spese, visto che ho utilizzato, un design non mio, quindi questo qui, questi li metterò in regalo, penso sul mio blog, o qui non lo so, magari voi date un'occhiata, qui sotto in un box informazioni, magari li trovate da scaricare, alla fine dell'agenda, c'è questa dashboard di nuovo, che serve sempre a proteggere l'agenda, e poi una bustina, questa bustina qui, aiuto, si è aperto, aspettate che, devo sistemare, questo danno che ho fatto, questa bustina qui, aiuto, aiuto, non credo che si sarà portata, comunque questa bustina qui, con chiusura ermetica, e l'ho acquistata a parte, e una bustina del genere, costano veramente poco, queste cose qui, liplastiche, quindi questa l'ho pagata, 95 centesimi di dollaro, per cui veramente poco, ed è utilissima per portare gli adesivi, scusate, ma è successo di nuovo, perché ho messo veramente troppe cose dentro, ecco qui, ci ho messo, la gomma, le mine, e poi ci ho messo tutti questi adesivi, che colleziono, sia che ho comprato poco, che ho collezionato negli anni, che sono adesivi, che ho preso magari, dai calendari, dalle agende che ho avuto in passato, e sono tutti quanti adesivi, che appunto si usano nelle agende, perché qui in Giappone, c'è veramente una mania, per l'organizzazione, e quindi c'è veramente, se si trovano questi adesivi, con un soco scritto magari, appuntamento, cena, caffè, insomma che si utilizzano per, ah, sono caduti tutti, vabbè comunque, eccoli qua, sono veramente troppi, aiuto, e un bilico, e poi questi pallini adorabili, pastellosi, mi piacciono un sacco, inoltre ho comprato ieri, in un 100 yen shop, ovvero, uno di quei negozi, in cui tutto costa 100 yen, questi plastichine, qui, questa carta qui, che non sono, nient'altro che, post-it da personalizzare, è una carta adesiva, che poi, sì, è adesiva, vero? dovrebbe essere adesiva, c'era scritto, che è adesiva, vabbè comunque, per fare, aiuto, dovrebbe, sì, vabbè, dei fogli, velini, si dice fuori di velini, non lo so, comunque, questi qui, e poi, mettiamo tutto via, c'è anche il portapenne, in questa agenda, io ho messo questa penna, Slicci, che è una penna, della Pentel, dove, che ha, insomma, mille colori, e ovviamente, sono messi il rosa, il fucsia, il celeste, il nero, e c'è addirittura, il portamine, poi, qui, sempre nell'agenda, troviamo, una tasca, per mettere, un black note, che, dovrebbe, deve essere, più piccolo, di una 5, mi pare, proprio, sì, scusate, non l'ho controllato, aiuto, ma, grazie alla Doki Book, adesso, ho anche un righello, per controllare, al volo, sì, è più piccolo, di una 5, quindi, non so, veramente, se si trovano, dei blocchi, del genere, boh, e poi, qui, c'è un'altra tasca, dove, io ho inserito, dei ricambi, per, per questa penna, qui, tipo, ho preso il verde, e un altro rosa, altri, no, altri due rosa, perché, ci sono varie tonalità, di vada, per questa penna, e, stavo diventando, noiosissima, parla di video, di colori delle penne, ma, ecco qui, la mia agenda, ve l'ho fatta vedere tutta, il mio, libro gigante, perché, praticamente, cioè, guardate quanto è grossa, è veramente pesante, penso che peserà mezzo chilo, non so, per quanto tempo, me la porterò in giro, però, questo hobby, mi ha catturato da subito, e, sarà perché, comunque, mi piace realizzare, questo tipo di cose qui, a quanto mi dispiace, che si è rovinata qui, vabbè, passiamo a un'altra pagina, perché mi piace tantissimo, realizzare, la grafica, e, per cui, è stato veramente, è arrivato al momento giusto, questo hobby, aiuto, stavo per distruggere tutto, ok, ho distrutto tutto, e, ah, un'altra cosa, di cui non vi ho parlato, sono gli anelli, che, nella, doki book, sono veramente giganti, eh, inoltre, poi c'è appunto questo, scusate, ma, non ho più, l'altra mano a disposizione, ecco, ok, ehm, questi anelli giganti, che si aprono, facilmente così, e, si richiudono, funziona molto bene, ehm, è veramente ben fatta, devo dire, che è veramente ben fatta, e, vi lascerò poi, il link qui sotto, con tutte le, con tutte le informazioni, del caso, e, niente, insomma, dalla mia agenda, è tutto, vi saluto, e, magari, io, non ve lo dico, che ritorno su YouTube, magari, un altro video lo farò, chi lo sa, ciao, uo, 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 Grazie a tutti.